Il prossimo appuntamento della 22esima stagione concertistica melodica, che è il primo del 2017, sarà sabato 14 gennaio, il Gran Galà della Lirica. I nostri due artisti sono artisti che si sono esibiti in tutto il mondo, in teatri prestigiosi, hanno ricoperto ruoli principali in molte opere liriche, quindi è davvero difficile da parte mia sintetizzare il loro ampio curriculum in due parole. Posso solo invitare chi mi ascolta a visionare il loro curriculum visitando il sito www.melodicaweb.it. Quindi sarà una serata veramente molto bella e che il pubblico apprezzerà, ma io adesso passo la parola al soprano Silvia Di Falco, che è qui con me, che appunto ci illustrerà meglio il programma della serata. Grazie. Sì, il programma praticamente spazierà tra il repertorio lirico italiano, quindi ascolteremo tutti i brani più famosi delle opere come Traviata, Bohème, Elisir d'Amore, Madame Butterfly. Nella prima parte avremo proprio un escursus di duetti e arie del repertorio lirico italiano, nella seconda parte invece spazieremo tra alcuni brani di operetta per andare poi anche nella canzone napoletana. Quindi sarà un programma variegato e cercheremo di essere brillanti e allietarvi nel miglior modo possibile durante il concerto. Quindi vi aspettiamo, vi ricordo che il concerto inizia alle 20.30 con l'ingresso al pubblico alle ore 20, che il biglietto intero è di 10 euro e il ridotto per studenti è di 5 euro. Quindi vi aspettiamo sabato 14 gennaio. Grazie a tutti!